Salve ragazzi e benvenuti a un nuovo tutorial del vostro Magic sempre da Photoshop. Oggi di cosa volevo parlarvi? Volevo parlarvi del photorytalk appunto che possiamo fare con Photoshop CS5 in maniera molto molto semplice. Intanto inizio nel dirvi che ovviamente tutto è in base alla fotografia, alla qualità della fotografia, nel senso che sì è vero che con Photoshop si possono fare i miracoli, però ovviamente non possiamo andare a fare un fotoritocco con una fotografia appunto a bassa risoluzione da un cellulare o non so da una macchina fotografica, appunto questa qui, quelle che costano due euro, roba simile. E' chiaro che un fotoritocco degno di nota deriva molto soprattutto appunto a bassa la qualità della nostra fotografia che voglio andare a ritoccare. Ad esempio apriamo il nostro Photoshop con una buona fotografia della nostra Jessica Alba. E' diciamo questo primo tutorial perché spero di poterne fare altri. Volevo insegnarvi, diciamo, volevo, non insegnarvi come dico sempre io, volevo parlarvi appunto di alcune piccolissime cose, diciamo, trucchi che si possono andare a fare appunto con il nostro Photoshop. Allora per esempio vediamo che la nostra pelle è sì, truccata, ma vorremmo per esempio abbronzarla, vogliamo dargli una sfumatura a quest'occhio, per esempio, e vogliamo togliergli questo Neo e dare un rossetto, diciamo, diverso alla nostra Jessica. Per esempio, la prima cosa che possiamo andare a fare è togliere questo Neo. Con il nostro Photoshop CS5 c'è questa funzione che si chiama qui strumento pennello correttivo al volo, per esempio, oppure strumento pennello correttivo. Noi prendiamo momentaneamente quello al volo, basta andare a cliccare qui e il Neo sparisce, come vedete. Possiamo andare a modificare, per esempio, anche, vedete, le sopracciglia, se non ci piacciono tanto, possiamo andarle a modificare un poco per svoltirle. E questo potrebbe essere, per esempio, un primo passo. Ora, vogliamo andare a, per esempio, a modificare un attimo il volo, vogliamo farlo un po' più magro. Sempre su Photoshop andiamo su Filtro, su Fluidifica, ci apre un'altra pagina e possiamo andare a selezionare questo strumento, il primo strumento, altra in avanti, con una dimensione non troppo grande, dal 70 al 100 potrebbe andare bene, una densità del pennello, per esempio, io sto usando del 40, e una pressione del pennello del 20. E fare proprio a piccolissimi tocchi, per esempio, e andare a dimagrire un poco, per esempio, questo viso. Non avrebbe bisogno, ovviamente, la nostra Jessica Alba è bellissima già così, però è solamente per farvi rendere conto di quello che potrebbe fare il nostro Photoshop. Per esempio, vogliamo dargli un tocco in più alle nostre labbra, gonfiarle, per esempio, un attimino. Basta fare così. E abbiamo gonfiato, per esempio, le nostre labbra. Quello che dico io, solitamente, è non dare, diciamo, dei tocchi su questo Fluidifica troppo ampi, perché, appunto, poi la foto non viene naturale, nel senso fare un fotoritocco più omogeneo possibile. Possiamo, per esempio, diminuire un po' quel mento, in un certo senso, oppure dargli un tocco migliore. Dipende tutto da quello che volete fare. Possiamo, per esempio, alzare un attimino la punta di questo naso, allargarlo un pochettino. Insomma, quello che volete voi. Se non vi piace il risultato, basta andare su Ripristina tutto. Come vedete, ritorna tutto normale. Oppure, potevate andare, per esempio, sulla seconda opzione, questo strumento Ricostruisci, e potevamo andare a fare dei tocchetti per ricostruire come era prima. Comunque, in questo caso, noi la lasciamo così, perché già la nostra gestica alba è bella così. Andiamo solamente a dimagrire un po' quel volto. Giusto un po'. E, come avevo fatto prima, andare ad allargare le nostre labbra, allungo. Un effetto da cuscinetto. Come avevo detto prima, ovviamente è giusto un poco per fare, per rendervi conto del fotoritocco come potrebbe essere. Ok. Questa è la differenza, se io vado, per esempio, dietro, vedete? Tutto dipende molto da quello che volete fare. Adesso, il primo fotoritocco che si potrebbe andare a fare, per esempio, è dargli un attimino di abbronzatura. Allora, ci sono tantissimi metodi, ragazzi, cioè, ognuno ovviamente usa il suo. Io cerco, tento sempre, nei miei tutorial, scusate, di insegnarvi qualche metodo più semplice, diciamo, possibile. Magari con un po' più di passaggi, ma per me, secondo il mio punto di vista, sono molto semplici. Ad esempio, possiamo andare a prendere lo strumento lazzo poligonale e andare a selezionare, senza avere poi alla fine troppa cura, la parte del volto. Un po' anche delle orecchie, per esempio. Andare a selezionare un po' quel viso così e andare poi con un colore, andare a sfumare, con un attimo di abbronzatura, il volto della nostra Jessica Alba. Perché non sto avendo troppa cura nel selezionare il volto? Perché in questo metodo che uso io, ad esempio, poi andando a sfumare, non si vedranno, appunto, troppi difetti. Una cosa che possiamo andare a togliere, per esempio, è l'interno degli occhi. Quindi andiamo sempre qui sopra, la terza opzione, quella sottrae dalla selezione, e andiamo a sottrarla all'interno degli occhi. Semplicemente così. Fatto questo, ragazzi, possiamo andare a creare un nuovo livello qui a destra, un nuovo livello trasparente, e andare a prendere un colore, diciamo, sul marroncino, un marroncino, diciamo, abbastanza scuro. Dovrebbe andare bene così. Prendiamo il nostro fidato secchiello e andiamo a dare questo colore qui. Lo mettiamo su sovrapponi. Come vedete, già c'è un primo cambiamento e diminuiamo l'opacità. Io, per esempio, la sto diminuendo del 20%. Come vedete, se io deseleziono, abbiamo questa sorta di abbronzatura maggiore. Possiamo anche non fare questo, per esempio, andare sul livello della nostra immagine, per andare su immagine, se non avete questa finestra qui a destra, regolazioni, tonalità e saturazione, per esempio, possiamo diminuire la nostra tonalità, la nostra saturazione, tutto a seconda di quello che volete fare. Comunque, io uso questo metodo, con cui mi ci trovo benissimo. Do appena appena una abbronzatura, eccola qua. Possiamo deselezionare, ovviamente, e qua abbiamo la nostra abbronzatura. Se ci sono dei difetti, basta andare sul livello che abbiamo dato della abbronzatura, a livello trasparente, prendere una gomma fuzzy, cioè la gomma con un fuzzy, cioè il primo di tutti che trovate, cioè la durezza del 0%, una dimensione appena appena di 36-40 pixoli, insomma, e andare a sfumare un poco, diciamo, la parte dei capelli, che a noi non piace vedere, diciamo, queste linee di abbronzatura anche nei capelli, ma giusto proprio un po'. Fatto questo, ragazzi, potremmo andare a fare con lo stesso metodo, per esempio, un ombretto qui sopra gli occhi, ad esempio, oppure sopra le labbra. Facciamo sempre un nuovo livello, possiamo andare benissimo a riselezionare, ovviamente, le nostre labbra, per esempio, per dargli un rossetto maggiore con lo strumento lazzo poligonale, però a noi non piace lavorare sempre nella stessa maniera, quindi questa volta prendiamo uno strumento pennello, il pennello sempre è un fuzzy, facciamo di una dimensione, ovviamente, minore, facciamo del, vediamo, del 31 pixoli, scusatemi, potrebbe andare bene, e scegliamo sempre il nuovo livello, il colore che a noi ci interessa andare a dare, per esempio, in questo caso possiamo andargli a dare un bel rosa fucsia, insomma, non so quello che sia, facciamo così, semplicemente, ragazzi, cioè non è veramente difficile. Io lo sto facendo un po' a caso, ma comunque voi andate, diciamo, più lenti. Allora, lo mettiamo su sovrapponi, diminuiamo assolutamente l'opacità, non di tantissimo, del 20% potrebbe andare bene, come vedete c'è un primo miglioramento, abbiamo dato una sorta di trucco, possiamo andare a aumentare questo trucco, per esempio, oppure a diminuirlo sempre con la gomma fuzzy, per esempio, ci sono degli errori, in questo caso sulle sopracciglia, ok, e abbiamo dato un primo trucco alla nostra Jessica Alba. Possiamo andare a fare la stessa cosa, per esempio, per aumentare, credo che si chiami eyeliner, non so, questo attorno all'occhio. Prendiamo sempre il nostro pennello fuzzy, prendiamo il colore nero, questa volta però ha una dimensione proprio piccolissima, facciamo 10 pixel, per esempio. andiamo ad aumentare sempre in un nuovo livello questo eyeliner, semplicemente in questa maniera, ragazzi. Io ovviamente non sono una donna, non saprei truccare, ma comunque credo che potrebbe andare così. Faccio un solo occhio. Possiamo lasciarlo sul normale, come stile di livello, e diminuire l'opacità, per esempio se io lo tolgo, come vedete, la differenza c'è. Stessa cosa, semplicissima, possiamo farlo negli occhi, però gli occhi di Jessica Alba in questo caso non ci piacciono, andiamo allora a colorare un po' di più le labbra. Quindi sempre in un nuovo livello, andiamo a colorare le labbra di, non so, di un rosso proprio acceso. Prendiamo sempre il nostro pennello fuzzy, questa volta lo possiamo aumentare la dimensione, e semplicemente fare dei tocchetti, appunto, come abbiamo fatto per l'ombretto, questa cosa qui. Ragazzi, scusate, io non sono donna, quindi non lo so. Ovviamente tralasciando i denti. Ok. Io lo sto facendo veramente malissimo, ragazzi, però scusatemi. Voi dovete perderci più tempo. Andiamo su sovrapponte, come al solito, diminuiamo l'opacità. Ecco, noi abbiamo dato già un bellissimo effetto di rosso. So che, credo che se mi guardi una donna sarà tipo incavolatissima, perché la sto toccando veramente come una pagliaccia, però è solamente per rendervi conto. In questo caso, per esempio, l'opacità è troppa, quindi la diminuiamo. Eccola qua. Io la sto diminuendo del 20%, e questo, per esempio, è il risultato finale che potrebbe essere appunto gradito. L'ultima parte del mio video tutorial consiste in questo, ovvero facciamo un nuovo livello. Per migliorare in maniera molto, molto veloce e pratica la nostra foto, possiamo ad esempio fare un nuovo livello. Clicchiamo su Immagine, Applica Immagine, diamo l'ok. E a questa immagine non dobbiamo fare altro che duplicarla. La duplichiamo al livello dell'immagine, appunto, duplicata. dobbiamo andare su Filtro, Sfocatura, Controllo Sfocatura. Potete dare una sfocatura di 9 pixel, di 8 pixel, insomma, va benissimo così. Non abbiate paura, perché basta diminuire la nostra opacità, per esempio, la sto diminuendo del 23%, come vedete c'è un notevole miglioramento. Diamo una sfocatura al volto per avere, diciamo, una luminosità, un gioco di luce un po' diverso. E questo potrebbe essere il nostro primo fotoritocco in maniera molto, molto, molto semplice. E' veramente molto facile, ripeto, tutto in base alle fotografie che abbiamo. E devono essere, ovviamente, di una buonissima qualità, magari una buona qualità, non dico per forza ottima, ma comunque non state lì a fare fotoritocchi di fotografie dei cellulari o di macchine fotografiche scadenti, perché appunto non sarebbe lo stesso risultato, perché altrimenti dovreste andare a fare una cosa del genere, nel senso diminuire le dimensioni per non farvi vedere i difetti. Spero di essere stato utile, ragazzi, e questo ovviamente è un fotoritocco molto semplice, ma comunque di impatto. Ciao dal vostro Magic e al prossimo video-vittoria.